Erano due giorni prima di arrivare al mare. Non è passato anche Griballi e Giulio ci sono, sì. Ci stiamo avendo bocchi. Io prendo il fucino di mio marito e vi sparo. Il mio signore era un antifascista sfruttato. Prima mi volevo massare, poi mi davano al cioccolato. Andavamo poi avanti e indietro, spesso, sotto le granate. Perché per noi il falasco era una ricchezza. O morire dal freddo o arrangiarsi in quel modo. Pioggia, neve, freddo e noi lì come i patelli.